Non un centro massaggi, ma una casa d'appuntamento, chiuso dai carabinieri a Desio, un beauty center a luci rosse. A fa scattare le indagini nello scorso ottobre, l'esperienza agghiacciante di un cliente, un 22enne originario del Kenya, residente della Bergamasca, per lui l'incontro hot si è concluso a colpi di mannaia. L'uomo aveva conosciuto una giovane cinese su un sito di incontri, concordando e pagando in anticipo un rapporto sessuale in un centro massaggi nel centro storico di Desio. Ma quando si è presentato al negozio, vetrino oscurato in modo che nulla fosse visibile dall'esterno, le sue aspettative si sono infrante davanti al diniego della donna, una 37enne proveniente dal deserto dei Gobi, che ha eseguito il massaggio e nulla altro. Di fronte alla richiesta di avere indietro i soldi, la reazione della giovane e del marito, titolare dell'esercizio, connazionale, sopraggiunto in un secondo momento, è stata violentissima. Lo hanno aggredito con un bastone e una mannaia. Il 22enne, ricoverato all'ospedale di Desio, è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. L'intervento dei carabinieri in quell'occasione aveva dato il via alle indagini, con il ritrovamento all'interno dell'esercizio di materiale riconducibile all'attività di prostituzione, rendiconti e documentazione, il bastone e la mannaia utilizzati dalla coppia. Entrambi arrestati per lesioni personali aggravate in concorso e denunciati per violazione in materia di immigrazione. Lui, 43enne, con una lunga serie di precedenti specifici, lei, in realtà, a sua volta vittima del marito, costretta da anni a vendersi tutti i giorni, fino a notte fonda, dai 20 ai 50 euro a rapporto a seconda della prestazione. I proventi dei massaggi e dei trattamenti extra venivano incassati esclusivamente da lui. Il centro massaggio è stato posto sotto sequestro, la coppia è stata segnalata al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri per ulteriori accertamenti connessi a presunte irregolarità lavorative.